Ciao a tutti e benvenuti alla Galleria delle Armi, una serie in cui diamo un'occhiata a ogni arma nel gioco, parliamo di statistiche e vi dico quale sono le classi migliori per ogni arma. Nell'episodio di oggi parleremo della nuova pistola K45, quindi come prima cosa diamo un'occhiata alle statistiche. Innanzitutto daremo un'occhiata al profilo danni della K45. Qui è importante sapere che i valori della K45 cambieranno tre volte. Infatti il danno per i colpi al corpo scenderà da 28 a 18, mentre i danni per i colpi alla testa scenderanno da 30 a 19. Per semplificare le cose per voi e per renderle un po' più veloci ho creato una tabella. Qui potrete vedere il danno di ogni singolo colpo della K45. Qui invece potrete vedere se si tratta di un colpo al corpo o un colpo alla testa. Infine qui potrete vedere quanti colpi vi serviranno per uccidere il vostro avversario. Ho anche fatto in modo di aggiungere la distanza vicino ai valori. In questo modo saprete a quale distanza quest'ultimi vengono applicati. Se vi serve ancora un po' di tempo per studiarvi i valori sentitevi pure liberi di mettere in pausa il video. Come ben sapete i danni non diminuiscono solo con la distanza, ma anche se il vostro avversario usa un giubbotto antiproietile. In tal caso otterrete questi valori. Poiché il giubbotto antiproietile non protegge la testa, i danni lì rimangono gli stessi. Il danno dei colpi alla testa tuttavia cambierà se usate alto calibro. In tal caso otterrete questi valori. Dunque se centrate soltanto la testa, alto calibro può essere un accessorio devastante. Ora che abbiamo dato un'occhiata ai danni possiamo guardare anche le altre statistiche della K45. La K45 vi permetterà di entrare in modalità mirino in 0,1 secondi. Per ricaricare la K45 vi ci vorranno 1,38 secondi, oppure 2 secondi se avete il magazzino vuoto. Questi tempi possono essere accorciati se usate caricatori rapidi oppure caricatori ibridi. Con i caricatori rapidi scenderanno a 1,12 secondi e 0,58 secondi, mentre con i caricatori ibridi scenderanno a 1,24 secondi e 1,09 secondi. Con la K45 avete 20 colpi a vostra disposizione. Tuttavia i caricatori ibridi faranno salire questo numero a 30. Per la cadenza di fuoco questa volta abbiamo ben tre valori, visto che la K45 dispone degli accessori fuoco rapido e fuoco rapido 2. Senza accessori la K45 sparerà a una velocità di 840 PAM. Con fuoco rapido 1 questa velocità salirà a 900 PAM. Con fuoco rapido 2 non sono stato in grado di definire il numero esatto, però in base ai miei calcoli è tra i 900 e i 930 PAM. Come potete dunque vedere questa pistola ha una cadenza di fuoco abbastanza elevata. Ricordate che più alta è la cadenza di fuoco più forte è il rinculo. Quest'ultimo è controllabile a distanza ravvicinata. Provare a uccidere un nemico da lontano con quest'arma dunque non è una buona idea, visto che la vostra mira ne soffrirà. Inoltre come avete appreso prima il danno di quest'arma scenderà drasticamente con la distanza. Passando agli accessori, questi sono tutti accessori e mirini disponibili per la K45. Visto che quest'arma è fatta per gli scontri ravvicinati, il mirino reflex non è assolutamente necessario. In quanto agli accessori ce ne sono soltanto due dei quali non ho ancora parlato, ossia impugnatura e calcio regolabile. Per come la vedo io, entrambi questi accessori non sono necessari. Con calcio regolabile potrete muovervi più velocemente in modalità mirino. Tuttavia stiamo parlando di una pistola, dunque la velocità alla quale vi muoverete in modalità mirino supera di già quello di ogni altro tipo di arma da fuoco. L'impugnatura invece ridurrà leggermente il rinculo dell'arma. Tuttavia come vi ho detto già prima, il rinculo può essere controllato a distanza ravvicinata. E visto che i vostri danni scenderanno drasticamente con la distanza, provare a uccidere un nemico da lontano non mi sembra una buona strategia. Ora che abbiamo parlato un po' degli accessori è venuto il momento di mostrarvi quali sono le classi che vi suggerisco per quest'arma. Eccoci qua. Dopo aver testato per un po' la Cap 45 sono giunto alla conclusione che questa è di sicuro la classe più adatta per quest'arma. E ora vi spiegherò anche il perché. La Cap 45 ha una cadenza di fuoco abbastanza elevata. Purtroppo ha posto soltanto per 20 colpi in ogni magazzino. Dunque se mancherete il vostro bersaglio quasi di sicuro morirete. Però se usate caricatori ibridi non solo caricherete la vostra arma più in fretta ma avrete anche a disposizione 30 colpi per ogni magazzino. Questa è una cosa abbastanza utile specialmente se vi troverete di fronte a due nemici. Ora ho deciso di usare anche FMJ perché come avete visto prima quando abbiamo parlato dei danni, i danni scendono notevolmente quando il vostro bersaglio porta un giubbotto antiproietile. Il risultato di questo è che voi ci metterete molto più tempo ad uccidere il vostro nemico. Però molto probabilmente lui vi ucciderà prima che voi possiate farlo. Tuttavia se usate FMJ questo nega completamente l'effetto del giubbotto antiproietile. Passando alle specialità invece ho deciso di usare le mie solite specialità silenzio tomba e spericolato che mi permettono di essere più silenzioso e reagire un po' più in fretta. Come vi ho già detto la K45 ha una cadenza di fuoco molto elevata dunque finirete le munizioni abbastanza in fretta. Ecco perché vi consiglio di usare o sciacallo oppure se riuscite a sceglierlo all'inizio di una partita vi consiglio di usare Crash come specialista perché così non finirete mai a zero con le munizioni. Ho anche deciso di usare un sensore acustico perché questa è un'arma per i scontri ravvicinati dunque se intorno all'angolo c'è un nemico è molto utile saperlo prima che questo abbia la possibilità di vedervi. Come vedete abbiamo a disposizione ancora tre slot e qui veramente vi consiglio di prendere un'arma principale e potete prendere quella che preferite. Ora io quando uso la K45 uso sempre anche un fucile di precisione e di solito la mia scelta cade sulla paladin. Infine posso dire che la K45 è un'arma molto potente tuttavia bisogna tenere a mente che rimane sempre un'arma secondaria. A parer mio quest'arma forma una perfetta combinazione con fucili di precisione, fucili tattici e anche mitrali elettrici. Personalmente mi sono divertito parecchio a usare quest'arma e sono sicuro che ora che conoscete i suoi punti di forza e sapete come usarla al meglio anche voi vi divertirete molto con quest'arma. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, ci vedremo presto con un nuovo video e una nuova arma. Questo è tutto per oggi, saluti dal vostro ecorio. Grazie a tutti.